liberatevi da attraverso Mario del Giglio guida tante volte siete insofferenti della vita che trascorrete e vi abbattete davanti agli ostacoli pur sapendo che questi arrivano per una vostra progressione in quanto superandoli la vostra luce si amplia è vero lo abbiamo detto eppure notiamo che superare gli ostacoli diventa quasi impossibile anche se avete compreso che è il solo modo per abbattere le barriere non volete andare avanti perché dico questo perché senza l'abbattimento la luce viene a voi soffusa non è chiara e limpida come intendiamo noi farla vedere a voi com'è la realtà che noi adesso viviamo quindi questa realtà che avete ora è diversa ma assolutamente la realtà non è diversa in quanto come dicevo la realtà è sempre una se la vedete diversa è perché siete voi che vi trasformate ed entrate a piccoli passi in quella dimensione in quella realtà dell'esistente dove vengono accolti tutti i suoi figli sì cari fratelli non si può disconoscere che l'esistente essendo luce non accolga tutti coloro che sono nelle tenebre e vengono alla sua luce illustriamo quindi le varie fasi e i passaggi che si devono attuare per avere quella consapevolezza e così entrare ed avere più luce ognuno di voi abbiamo detto deve abbandonare le verità che ha per poter andare avanti altrimenti si ferma qui è il punto dal quale dovete uscire e togliere dal vostro intimo tutte le sovrastrutture create dal vostro ego quindi liberatevi da tutti gli insegnamenti e ricevuti